ragazzacci belli benvenuti sul mio canale the nick qui si parla di musica di musica con la m maiuscola ma anche con la e maiuscola di emozione e canale di un ragazzo ormai 50 anni che vuole trasmettere tutta la passione che ha per questa per quest'arte e eccovi qua se volete iscrivetevi troverete tantissimi tantissimi shorts soprattutto su vero consigliate nick quindi consiglio dei miei album che posseggo realmente quindi vinili piuttosto che cd e ogni settimana questa trasmissione che si chiama the music per sweaters che vi invito a seguire insieme al mio socio in affari in questo caso bruno derivo h in di bar e la trasmissione ma in onda tutte le settimane o il martedì o mercoledì a secondo gli impegni lavorativi perché non siamo ovviamente dei professionisti non ci paga nessuno però ragazzi seguiteci iscrivetevi sul mio canale e anche su quello di in di bar ci vediamo prestissimo buona continuazione belli de casa ciao